Salta per il secondo anno consecutivo la fiaccolata del 6 aprile a causa del covid. Ci saranno comunque dei momenti di ricordo e commemorazione. Sarà replicata l'iniziativa Accendi la tua luce con la quale si chiede alle persone di tutta Italia di ricordare le vittime del sisma ma anche quelle del covid con una luce sul proprio balcone. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile ci saranno in piazza Duomo solo il sindaco Pierluigi Biondi, il prefetto Cinzia Torraco e un rappresentante dei comuni del cratere. La messa dell'arcivescovo dell'Aquila al Cardinale Giuseppe Petrocchi sarà celebrata alle ore 18. Ovviamente nella notte tra il 5 e il 6 ci saranno i rintocchi delle anime sante, uno per ogni vittima del sisma. Non appena scenderà il sole, il 5 saranno letti in piazza ai nomi delle vittime e il sindaco farà un ricordo dei morti del terremoto. Ci sarà il fascio di luce che illuminò la piazza anche l'anno scorso, un vigile del fuoco accenderà il bracere. Il giorno del 6 aprile ci sarà un'unica iniziativa, l'omaggio alle 12 dinanzi alla casa dello studente. In tutto questo è emerso anche il tema del commercio e dei negozi aperti o chiusi, ancora non c'è l'ordinanza del lutto ma comunque non si stabilirà la chiusura delle attività, piuttosto si inviterà a sospenderle sino alle 11. Ognuno ha le sue idee in merito. C'è chi non ha ancora deciso, chi resterà aperto comunque perché altre chiusure per alcuni non servono in un momento come questo, pur rispettando il lutto che ha di tutti. Altri ritengono che per alcune attività di servizio l'apertura sia necessaria, come Michele Morelli che ha un'attività in piazza Duomo. Comunque la giornata del 6 aprile non va e non deve essere dimenticata, la commemorazione caduti non deve essere assolutamente sottovalutata, quindi va fatto tutto, istituendo un lutto cittadino, quindi dovranno essere fatte manifestazioni ludiche, si lavorerà a musica spenta, quindi tutti i tipi di manifestazioni devono essere assolutamente annullate. Ma da qui a fermare l'economia di una città mi sembra esagerato. Facciamo l'esempio di Hiroshima che ormai sono decine di anni che ricordano come amore tutti i caduti e lì si ferma una città per un minuto, addirittura anche si ferma in mezzo al traffico, si scende dall'auto, ma non viene bloccata l'economia della città assolutamente. Quindi ricordiamo i caduti, ricordiamo il 6 aprile come un giorno che ormai ci ha segnato la vita ma in modo intelligente.